Un saluto a tutte le autorità rotariane e rotaractiane Ciao raga, benvenuti al bollettino di settembre Benvenuti da me e la mia pianta verde qui Che non sapevo dove mettere In questo mese il mio messaggio è Spero che vi siate divertiti ad agosto Che abbiate staccato la spina E che siete carichi per l'ufficiale inizio dell'anno sociale Abbiamo un sacco di eventi Noi il 9 di settembre abbiamo I primi rotari maturati con più di 100 Quindi anche 100 e l'ode E poi il 22 settembre c'è il Rotaract Camp a Bologna Quindi mi raccomando non perdetevelo Perché non so esattamente cosa dobbiamo fare Però deve essere molto divertente E poi il 28 settembre ci sarà l'apertura della zona malatistiana e bizantino Ce l'ho fatta a dirlo Ah, raga So che questo è il bollettino di settembre Ma mi raccomando preparatevi per il 31 di ottobre Per la festa di Halloween del nostro club Perché è sempre fantastica e sarà fantastica anche quest'anno E niente Noi ad agosto ci siamo visti un paio di volte Siamo andati a vedere mischette dell'Eltra Lamborghini al DJ Home Stage a Riccione E niente raga Queste sono le cose che facciamo noi in Riviera Ah, no Poi c'è anche il 3 settembre Abbiamo partecipato alle celebrazioni Della Fondazione della Repubblica E del Santo Patrono Praticamente non lo so se si dice Patrono bagnato o Patrono fortunato Perché ha diluviato Quindi è stato bello però Molto bello Spero di non essermi scordata niente Perché sennò D'Ambro mi ammazza E anche la Julie Ed è il momento per l'ospite speciale Lo vado a prendere Saluta la gente Vero che D'Ambro è fantastico E basta